È proprio vero, insomma, la salute, la sana alimentazione inizia proprio dal carrello. Il primo passo che dobbiamo fare è andare al supermercato e cercare di scegliere i cibi, gli alimenti che ci fanno bene. Ma in che modo? Quali sono gli alimenti che dobbiamo portare a tavola ogni giorno? Insomma, tante domande risponderà la professoressa Deborah Rasio. Benvenuta, cara professoressa, specialista in oncologia medica e nutrizionista, ricercatrice universitaria sapienza di Roma. È proprio vero, noi dobbiamo iniziare, dobbiamo imparare anche a fare bene la spesa. Allora, quando andiamo al supermercato abbiamo la lista della spesa, facciamo un po' un viaggio attraverso gli scaffali, un po' indecisi tra quegli alimenti che ci allettano un po' di più, tra colori e anche un po' frasi fatte ad effetto, in realtà invece gli alimenti che ci fanno davvero bene. Allora iniziamo subito dai tanto temuti grassi. Quali e perché li dobbiamo consumare nella nostra alimentazione quotidiana e quali sono? I grassi sono fondamentali per la vita e per diverse ragioni, ma intanto contengono le vitamine liposolubili, cioè vitamine sciolte negli alimenti grassi. Le vitamine sono quelle sostanze che ci fanno ammalare se non le mangiamo, ammine di vita. Se non mangiamo sufficienti grassi non trasformati a livello industriale, siamo carenti di vitamine liposolubili e di fatto ci ammaliamo. Pensate, durante la Seconda Guerra Mondiale le famiglie povere erano costrette a vendere la panna ai ricchi. Lo facevano a malincuore perché sapevano che la panna era la parte più preziosa del latte. E quindi i bambini ricchi crescevano senza rachitismo e infezioni, i bambini poveri invece si ammalavano. E oggi noi cosa facciamo? Spendiamo di più per prendere latte scremato, latte parzialmente scremato, formaggi magri, rinunciando alla parte più preziosa del latte, che sono proprio i suoi grassi. Fonte di vitamina anti-infettiva, vitamina D, preziosa per le ossa, per la salute del cervello e per la protezione delle malattie autoimmune e infiammatorie, vitamina E, antiossidante, vitamina K2, che porta via il calcio dalle pareti arteriose e lo porta nelle ossa. Quindi i francesi, che mangiano panna, formaggi dalla mattina alla sera e burro, hanno quasi la metà della mortalità cardiovascolare di noi italiani, che invece mangiamo tanti carboidrati. Quindi non dobbiamo temere i latticini, non dobbiamo temere quelli grassi, preferiamo sempre quelli di animali che hanno avuto accesso a erba o fieno, così da ritrovare le vitamine del sole e dell'erba nei loro prodotti. Abbiamo visto poco fa proprio una lista delle cose che devono essere consumate quotidianamente. A parte i latti e i latticini ci sono anche altri alimenti che noi dobbiamo consumare nella nostra alimentazione. Se andiamo nel mondo vegetale abbiamo la frutta oleosa, noci, mandorle e nocciole. Sono caloriche ma non fanno ingrassare. Addirittura il contrario, chi più consuma frutta oleosa negli anni prende meno peso rispetto a chi non la consuma. La stessa cosa vale anche per la cioccolata. Tutte belle notizie ci sta dando professoressa oggi, per fortuna. Esatto, perché la salute non è una cosa triste, la salute è meravigliosa e poi la natura ci offre tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi questi semi, la frutta oleosa, contengono un cocktail di vitamine, minerali, antiossidanti e grassi buoni che ci aiutano a rimanere in salute. Consumare 20-30 grammi ogni giorno di frutta oleosa, noci, mandorle e nocciole, riduce del 30% il rischio di morire di malattie cardiovascolari e del 20% il rischio di morire di ogni causa. Perché? Perché ci sta dando quelle ammine di vita senza le quali ci ammaliamo. Parliamo di burro adesso, no? È sicuramente l'olio, l'olio extravergione d'oliva, insomma un'altra fonte, no? Un farmaco naturale. Però io mi vorrei concentrare adesso anche sul burro. Ci sono tante varietà di burro. Lo dobbiamo consumare? E quale tipo di burro è migliore, se ce n'è uno migliore, professoressa? Il burro è un elemento stupendo se viene da animali che hanno mangiato l'erba, altrimenti nei grassi andiamo a ritrovare anche le tossine liposolubili, non solo le vitamine. E quindi il colore ci deve guidare. Qui avete tre bellissimi burri di colore diverso. Deve essere giallo scuro, vuol dire che è ricco di carotenoidi, quindi l'animale ha mangiato l'erba. E quindi è molto protettivo, ma anche prezioso e soprattutto il ghi o burro, è un tipo particolare di burro chiarificato che non ha né caseine né più lattosio. È un burro puro, un grasso puro che ha un altissimo punto di fumo, infatti veniva utilizzato per fare le cotolette panate, buonissime per cucinare le uova. E mi raccomando per i nostri bambini che hanno tanto bisogno di vitamine liposolubili, recuperiamo questi burri preziosi di animali a pascolo e usiamolo, perché i nostri bambini devono mangiare più grassi, essendo organismi in crescita, ne hanno particolare bisogno. Per cui il migliore è quello chiarificato, professoressa. Chiarificato solo se viene da animali a pascolo. Ecco, e questo c'è scritto nelle etichette, dovremmo imparare un po' a leggere le etichette, ma c'è scritto tutto. Passiamo alle uova, anche le uova. Però anche qui bisogna fare attenzione a quale uova si scelgono, vero? Uova sempre biologiche, perché almeno la gallina ha avuto modo un po' di razzolare, di mangiare un pochino di vermetti e altri insetti. Però le uova, immaginiamo che hanno tutti i nutrienti che servono un'unica cellula per diventare un pulcino. E quindi bisogna consumare due uova tutti i giorni se siamo organismi in crescita. Una donna incinta, pensate che in Cina andavano a consumare fino a 10 uova al giorno perché sapevano che così avrebbero avuto bambini intelligenti, perché sono una fonte preziosa di colina, che è un nutriente che serve a fare acetilcolina, il neurotrasmettitore della memoria. Quindi molto importanti le uova per i bambini. Non è vero che ne dobbiamo mangiare due a settimana. Il bambino sa. Quindi il bambino vuole mangiare un uovo tutti i giorni, diamoglielo assolutamente come facciano le nostre nonne, l'uovo fresco tutti i giorni. E anche però nella terza età, per proteggerci dalla perdita della memoria, le uova, fonte di colina, fonte di carotenoidi, come la luteina che fa bene agli occhi, e la zeaxantina sono uno degli alimenti più preziosi. Per cui anzi, insomma, consumiamo e mangiamo le uova, anche perché sono buone. Però parliamo anche di carboidrati. È vero, lei prima ha detto una frase, ne consumiamo troppi. Però vanno consumati, fanno parte un po' della nostra bellissima dieta mediterranea. Quali sono da consigliare? Quali dobbiamo mettere all'interno del nostro carrello della spesa? Allora, le nostre cellule usano glucosio come carburante principale, quindi non deve mancare. Però il glucosio è una molecola reattiva che tende a legarsi a proteine e grassi ossidandoli, cioè creando infiammazione. Allora, la natura, che è sempre intelligente e perfetta, ha messo una molecola problematica come il glucosio o il fruttosio nella frutta con gli antidoti, che sono la fibra, le vitamine, i minerali e le sostanze antiossidanti che proteggono dallo stress ossidativo. Quindi mangiamo i carboidrati nella loro forma autentica, i cereali in chicco, farro, orzo, riso integrale, i legumi, che sono una fonte di carboidrati con tanta fibra, la frutta, al posto dei succhi di frutta, degli zuccheri raffinati, dell'eccesso di farine raffinate, che sono state deprivate di vitamine e minerali e anche fibra utile perché è il nutrimento per i nostri batteri intestinali. Per cui è l'integrale comunque, insomma, anche integrale biologico? Ma integrale è vero, non l'integrale, il pane integrale o la pasta integrale perché a quel punto noi addizioniamo solo fibra che non è stata preparata tramite l'ammollo e che contiene lectine, cioè proteine infiammatorie. Quindi la pasta integrale e il pane integrale no, meglio casomai i bianchi a quel punto perché non ci irritano, ma i cereali in chicco ben preparati tramite ammollo sì. Questo mi piace, insomma, bellissima questa spiegazione. Passiamo alle proteine. Beh, devo dire, vanno tanto di moda. Adesso forse ne mangiamo troppe. Perché c'è questa accorsa al consumo di proteine, professoressa? Non si capisce perché noi ne mangiamo troppe. Quindi tutti questi alimenti super proteici in realtà sono piuttosto problematici. L'eccesso di proteine consuma precocemente le nostre riserve di energia e in realtà fanno invecchiare precocemente, soprattutto ai bambini. Poi noi italiani facciamo un errore clamoroso. Consumiamo le proteine più pesanti, tipo carne e pesce, a cena. Cioè il momento peggiore per consumarle perché non le riusciamo efficacemente a trasformare in energia e anche a digerire. Quindi produciamo un eccesso di acido cloridrico che rimane nel tubo digerente, quindi che ha problemi di reflusso, di gastrite, assolutamente evitare queste proteine la sera. Le dobbiamo invece consumare a colazione perché si è visto che vengono utilizzate al meglio. Non a caso i nostri nonni dicevano fai la colazione di un re. Cioè dovevano esserci le proteine, le uova a colazione, la ricotta, lo yogurt, la frutta oleosa, sono tutte fonti di proteine che proteggono il muscolo dalla sarcopenia, quindi quella perdita di massa e forza muscolare che si verifica con l'età. Si è visto che le donne che iniziano la colazione con fonti proteiche hanno la loro massa muscolare più protetta, quindi ne perdono di meno andando avanti con l'età. Quindi queste proteine di carne e pesce le possiamo consumare a pranzo e invece a cena una zuppa, quindi una cena da povero, una cosa leggera, che fa sì che di notte tutte le nostre energie possano essere investite nel riparo e nella rigenerazione e la mattina ci svegliamo riposati e rigenerati rispetto alla notte precedente. Io prima all'inizio di questo nostro spazio ho detto noi quando andiamo al supermercato siamo molto attratti all'interno di questi reparti, dalle frasi di marketing e anche dai colori. Pensando ai tanti prodotti che ci propinano, proprio come diceva lei, addizionati di proteina, lo yogurt, il kefir, allora questi prodotti addizionati sono da preferire e bisogna fare attenzione quando scegliamo per esempio uno yogurt. Cosa ci deve essere scritto all'interno dell'etichetta quando scegliamo appunto un prodotto come lo yogurt o il kefir? Nello yogurt ci deve essere solo latte, fermenti, basta, non ci deve essere nient'altro. Se un prodotto trasformato a livello industriale contiene più di quattro ingredienti, stiamo comprando un alimento ultra trasformato che fa male a tutti i sistemi in tutti i modi e che è una causa ormai nota di mortalità precoce e di malattie. Quindi noi leggiamo le etichette, ci sono più di quattro ingredienti, non è una buona scelta. Prendiamo uno yogurt naturale, inutile che sia addizionato a tante cose. Guardate quanti ingredienti assurdi, gli addensanti, gli aromi naturali, gli edulcoranti, sono tutte cose che disregolano il microbiota intestinale creando infiammazione. infiammazione, ci prendiamo un bello yogurt, se vogliamo greco, che è doppio filtrato, che ha già più proteine, e ci mangiamo una manciata di frutta oleosa, noci, mandorle e nocciole, abbiamo preso non solo proteine, ma anche tante vitamine e minerali che fanno bene al nostro sistema. Lo stesso vale anche per il kefir, vero professore? Certamente, anzi il kefir è anche meglio dello yogurt perché contiene più varietà di probiotici e contiene anche dei saccaromices molto utili per l'intestino. Tante persone risolvono i loro problemi intestinali consumando regolarmente il kefir tutti i giorni. Parliamo anche delle microplastiche, c'è stata anche un'allerta, insomma ne mangiamo troppe perché quando andiamo al supermercato tutti i prodotti sono confezionati e tutto questo si ripercuote anche sugli alimenti, è vero? E certo, qualunque alimento avvolto nella pellicola di plastica comincia a assorbire le plastiche e quindi dobbiamo fare attenzione, per questo un'altra buona ragione per comprare alimenti minimamente trasformati, ma attenzione soprattutto all'acqua. Noi facciamo un uso spropositato di acqua in plastica. Hanno analizzato con l'intelligenza artificiale il numero di microplastiche presenti in un litro di acqua di bottiglia e a seconda delle marche variavano da 140.000 particelle a 370.000 particelle di microplastica in un litro di acqua. Va da sé che queste microplastiche sono molto piccole, quindi penetrano, entrano nelle nostre cellule, entrano nel nucleo cellulare e iniziano a rilasciare le loro sostanze. Quindi interferiscono con il funzionamento delle nostre cellule, interferiscono con i nostri sistemi endocrini. Comprare acqua in bottiglia è una follia in bottiglia di plastica. Usiamo l'acqua potabile, purifichiamola attraverso una procedura super semplice, la bolliamo. Quando bolliamo l'acqua, se calcica, per esempio noi a Roma abbiamo un'acqua super calcica, si formano dei cristalli che imbrigliano le microplastiche e poi le portano sul fondo. Quindi basta bollire l'acqua per 5 minuti, aspettare che si depositino questi cristalli, volendo anche filtrarla con un panno. Abbiamo un'acqua che ha completamente cambiato sapore perché il cloro è intanto evaporato e se vogliamo la possiamo mettere in una damigiana al sole, i fotoni dei raggi solari continueranno a fare questo lavoro di modifica, strutturazione e purificazione dell'acqua a costo zero. A costo zero. Grazie. Grazie di cuore a professoressa Deborah Rasio, grazie per questi consigli così utili. Adesso io mi sposto e do...